Grazie, Sanna, Arcivescovo Metropolita di Oristano, al carissimo Cristo, reverendo sacerdote, buon salvatore anche la comunità di Bustas, pace nel Signore, resosi il bancante dell'ufficio di Paolo, della parrucchia di Maria Stella Navis, dittore grande, Nazione di Oristano, col presente del prezzo dell'ultimo tempo, salvatore Angelo Antonio Buscas, parrucchia della parrucchia di Maria Stella Navis, dittore grande, Nazione di Oristano, con tutti i ditti e i gruveli che spettano al Paolo. Oristano, primo settembre 2009, l'Ignazio Sanna, Arcivescovo, Cancelliere, Cancellordia, Comune di Oristano.